Buongiorno, buongiorno e benvenuta anche a Saramaino. Grazie, buongiorno. Allora cominciamo definendo quello che è Porto Beseno, se riusciamo a dare una definizione perché è veramente un progetto molto molto vasto. Sì, il progetto nasce nel 2005 e prevede da subito una serie di esplorazioni sul territorio ragionando sul tema della memoria, la memoria quella tradizionale degli archivi ma la memoria che nel 2005 stava nascendo, che era quella di internet e della scrittura creativa, di tutto quello che poteva essere un'archiviazione delle storie di un territorio attraverso il digitale. Parlare di mappe web e di utilizzo di internet nel 2005 è avveniristico, è molto avanti rispetto ai tempi. Sì, decisamente. La nostra sfida era di introdurre questo argomento che ci appassionava e di cercare questo ponte tra tradizione e innovazione. Per questo il nome Porto Beseno? È un nome di fantasia, un nuovo toponimo che abbiamo inventato e che vuole rappresentare questo ruolo significativo del castello di Beseno come riferimento paesaggistico e culturale, a cui abbiamo assegnato un ruolo che è quello di Porto. Certamente pesca dall'immaginario, avrete visto passando di notte tra Rovereto e Trento questo castello, questo maniero meraviglioso che ci ricorda una nave, un vero e proprio piroscafo di altri tempi. Ecco, abbiamo pensato che questa nave potesse portare, accogliere i prodotti culturali frutto della nostra ricerca sul territorio e rilasciare altri prodotti offerti anche da artisti che invitiamo ad esplorare e a conoscere questo territorio. Quindi Porto Beseno è un porto su una collina, che è la collina di Beseno ed è il nostro contenitore di progetti artistici e culturali dal 2005. Chi sono i protagonisti di questo festival? Il protagonista è il territorio e nelle sue varie forme narrative. Un territorio lo possiamo esplorare visivamente come un turista, ma lo possiamo esplorare anche dal punto di vista della memoria, della memoria delle storie. Un territorio raccoglie tantissime storie. E chi può raccontare? I viaggiatori del Settecento dicevano che bisognava andare su una collina per scoprire un territorio. Ecco, noi siamo invece entrati in questo paesaggio, abbiamo iniziato a raccogliere storie, abbiamo iniziato a raccogliere suoni ambientali e li abbiamo incominciati a mescolare per cercare di dare un senso al passaggio delle epoche, dalla tradizione, il senso stesso del castello che nel Novecento subisce un grossissimo restauro e che cambia anche l'identità stessa dei luoghi intorno, quindi diventa da castello a museo. Ecco, l'idea del festival è di raccontare attraverso un'azione di indagine e soprattutto attraverso un'azione di ridonazione artistica e di archiviazione web. Parlavi di territorio protagonista, il paesaggio nella sua sonorità è stato anche protagonista di un simposio di lettura internazionale in questi anni di Porto Beseno. Sì, l'abbiamo organizzato nel 2015 in collaborazione con FKL, che è un'associazione nazionale e internazionale che si occupa di paesaggio sonoro. Quindi il paesaggio sonoro è il paesaggio dei suoni, i suoni non solo prodotti dalla natura stessa ma anche dall'ambiente antropico. Ecco, 40 ricercatori e artisti sono arrivati al castello di Beseno per tre giorni nel 2015 e lì si sono chiesti a che punto il paesaggio sonoro o gli studi sul paesaggio sonoro, sull'ecologia acustica siano arrivati e se possiamo definire se c'è un'identità collegata al paesaggio sonoro, un'identità dei luoghi. Questo era il tema indagato appunto a maggio del 2015. È stata una tre giorni molto molto intensa con relazioni da parte di artisti e di ricercatori da tutto il mondo. E il paesaggio sonoro è anche un tema che noi stiamo indagando ormai dal 2010 e ritornando anche alla memoria dei luoghi pensiamo che i luoghi abbiano anche una memoria dal punto di vista sonoro. Questi suoni noi li esploriamo attraverso delle ricerche che realizziamo insieme ai bambini e alle bambine. C'è un fatto molto significativo che abbiamo intrapreso dal 2010 è di lavorare con l'Istituto Compressivo Alta Vallagarina e grazie anche ai comuni sottostanti, il castello, cioè il comune di Besenello, di Cagliano e di Volano, per raccogliere la memoria dei luoghi attraverso le memorie delle persone però attraverso anche lo sviluppo della capacità di ascolto nei giovani allievi che viene realizzata attraverso l'ascolto dei suoni. Quindi andiamo a caccia di suoni del territorio che poi noi archiviamo per poi andare anche alla caccia di storie, memorie raccontate dagli anziani. In un mondo che è quello moderno, prettamente visivo, diciamo c'è il grande spazio per la vista e per l'osservazione come reagiscono i ragazzi, quelli più giovani, soprattutto i bambini all'ascolto, all'attenzione, a questo senso che magari è meno utilizzato nella vita di tutti i giorni? Ecco, reagiscono con un meccanismo che è l'inizio della conoscenza e cioè lo stupore. I bambini e le bambine sanno stupirsi lo possono ancora fare, lo fanno anche gli adulti. Quando gli metti addosso una cuffia un registratore digitale in mano per raccogliere un suono gli occhi si aprono, si spalancano le orecchie ed entra un mondo di percezioni totalmente nuovo. Lo stupore e la meraviglia che loro hanno è l'inizio di una filosofia, in fin dei conti. Quindi la reazione è sempre molto positiva si instaura subito una possibilità di collaborare insieme. Aiutiamo anche da esperti, anche le stesse insegnanti e gli insegnanti a stimolare quella capacità di attenzione che proprio per tutta questa sovrabbondanza di stimoli in cui siamo immersi e che non possiamo ignorare forse si indebolisce ma utilizzando i suoni e la scoperta di questo mondo sonoro riusciamo a rafforzare. Parlavamo di eventi di respiro che va ben oltre quello del Trentino c'è stato anche un evento nazionale dedicato alle mappe online. Sì, circa dal 2010 che utilizziamo le mappe come archivio delle nostre ricerche ci eravamo interrogati su come mostrare tutte le nostre ricerche abbiamo scoperto prima Google Map poi altri strumenti che si avvicinano di più a una dimensione più etica nel senso che sono mappe che possono essere usate da tutti e non hanno diritti d'autore per esempio OpenStreetMap e abbiamo iniziato a usare queste basi per ridonare alle comunità queste ricerche e quindi geolocalizzare queste rilevazioni sonore queste storie e dare un senso anche alla comunità l'anno scorso abbiamo deciso siamo stati i primi in Italia a invitare una serie di esperti a parlare di proprio questo concetto del bene collettivo cioè del sapere del territorio che viene tradotto in mappa e è stata una cosa molto interessante perché siamo riusciti ad unire per esempio a livello locale la fondazione Bruno Kessler insieme all'ufficio del catastro storico piuttosto che ricercatori che lavorano sul design delle mappe digitali e archeologi che usano le mappe come nuove forme di ricerca sul territorio è un modo per tramandare ulteriormente quello che è la tradizione perché parlavate prima di testimonianze anche di chi ha vissuto certe cose del passato si rischiano di perderle se non si rendono... c'è anche una dimensione etica perché l'ultimo giorno è stato dedicato completamente alle ASUC del Trentino che sono le associazioni degli usi civici perché abbiamo voluto finire con questa associazione perché è quella che rappresenta in Trentino al meglio il discorso del bene collettivo quindi questi terreni che sono delle comunità e non sono comunali che somigliano molto a quello che in internet potrebbe essere il creative commons ovvero la condivisione del sapere quindi condividere i terreni condividere il sapere attraverso le mappe In questi 13 anni quanto è cresciuto e quanto si è arricchito Porto Beseno? Sono più di 70-80 i prodotti le produzioni realizzate all'interno di Porto Beseno attraverso gli artisti, attraverso azioni anche nostre che curiamo durante tutto l'anno quindi laboratori di ricerca e anche installazioni, installazioni sonore Quindi vediamo alcuni a Castel Beseno che sono state svolte in questi anni dove offrivamo al turista di Castel Beseno una serie di narrazioni che sono delle interviste ad anziani realizzate tra Besenello e Caliano in cui raccontano la storia del castello nel Novecento quindi quello che di solito il museo non racconta mai volevamo noi ridonare al turista queste storie quando il castello era un rudere, quando il castello era abbandonato Sì, per dare modo anche al visitatore di incontrare un passato più recente un passato che costruisce questo territorio e questa complessità che noi, grazie a questi interventi ambiamo a restituire quindi Davide parlava prima di un patrimonio materiale stiamo parlando anche di un patrimonio immateriale tutte queste testimonianze noi le archiviamo e sono a disposizione della comunità e dei comuni che sostengono il festival quindi è un patrimonio ancora per usare il mondo della rete e di internet che grazie alla rete viene condiviso ed è globale È un modo anche per invogliare le persone che magari sono meno attente all'arte a fruire di queste realtà che abbiamo sul nostro territorio e di percepirle anche in maniera diversa tramite strumenti nuovi? Sì, è importante l'idea è sempre di ricercare questo ponte tra tradizione e innovazione e questa linea continua della storia cambiano i modi di narrare ma alla fine il territorio rimane quello ci siamo accorti negli anni questa scarsa anche attenzione da parte delle istituzioni di dare un senso al territorio e ai cambiamenti è uno anche degli obiettivi di Porto Beseno quello di documentare questi cambiamenti se pensiamo che quando siamo nati nel 2005 come festival i social network non esistevano di fatto e non esistevano neanche gli smartphone e quindi anche in quel momento lì si è percepito il grosso cambiamento che stava avvenendo nell'internet e questa esigenza da parte nostra di riuscire a raccontare questo cambiamento Oggi come funziona il festival? Per esempio quest'anno quando si tiene come si fa a partecipare? Quest'anno c'è un'attenzione che viene rivolta al territorio intorno al castello in particolare nella valle del Rio Cavallo che è la valle che sale verso Folgaria proprio perché lo sguardo è sferico è a 360 gradi quindi si fa attenzione al castello come osservatorio culturale di quello che cambia intorno per raccogliere nella memoria le percezioni e le reinterpretazioni ma si va adesso oltre si è deciso di uscire e di solcare nuovi territori proprio una valle una valle del Rio stretta con tutti i personaggi storici e non soltanto anche gli artisti che possono venire e esplorare insieme a noi un sentiero ancora un sentiero che promette molte narrazioni e molta ricchezza Avete un sito di riferimento dove si trovano tutte le informazioni relative? Sì il sito si chiama portobeseno.it e raccoglie tutti gli archivi che abbiamo realizzato in questi anni che vengono ospitati sia su social network che su archivi interni e poi tutta una serie di mappe che raggruppano questi archivi perché in effetti è anche difficile navigare all'interno di Portobeseno proprio per la complessità di tutto quello che abbiamo archiviato in questi anni Chi sono i più affascinati da questo vostro progetto? I bambini sicuramente come raccontavi ma anche gli adulti? Sì, c'è questa cosa che è carina del fatto dell'adulto che viene intervistato e che poi va a cercare per la prima volta si approccia a un internet che sente proprio perché trova le interviste del proprio compaesano piuttosto che ci vengono a dire che hanno trovato dei documenti o dei riferimenti su Portobeseno che non conoscevano e quindi per noi è come dire da molta soddisfazione il fatto di riuscire ad avvicinare delle persone che solitamente considerano internet magari solo sotto il profilo del social network e non invece sotto quello di archivio della comunità per esempio è interessante anche il sottotitolo che avete dato al festival che è un viaggio tra fonti storiche e sorgenti web scusate per avvicinare anche quello che magari viene percepito come qualcosa che non sempre è attendibile il web dove si trova effettivamente di tutto e di più se viene accostato a una fonte storica a una persona che racconta che ha vissuto in primo piano risulta anche una fonte credibile il web sì proprio c'è un'attenzione per una duplice dimensione che è questa locale è quella della comunità che sempre è al centro della nostra indagine del nostro agire e quella più ampia e globale del web e parlando anche del fascino vediamo ad esempio come cambia nei bambini di anno in anno la percezione proprio dell'utilizzo di questa duplice dimensione quella del web come diceva poc'anzi Davide c'è sempre più ormai il web è tra di noi la rete internet è tra di noi e non possiamo ignorarla quindi di volta in volta anno dopo anno arrivano e ti dicono ah con il mio papà con la mia mamma ho trovato sì sì so già che cos'è Portobeseno perché ho trovato la storia dell'anno prima allora noi faremo così tra poco li trovate che vi insegnano loro perché sono nati digitali sono nativi digitali però il bello è che lo stupore resta sempre perché proprio la relazione per noi è fondamentale la relazione tra questa duplice dimensione che è quella locale e quella di internet non può omettere il fatto dell'incontro dell'incontrarsi con la gente dell'ascoltarsi e del parlarsi e questa dimensione è quella che affascina anche gli artisti che vengono poi al festival e ci frequentano perché prima di tutto si affacciano a un territorio meraviglioso è bellissimo quindi sono artisti che vengono anche da fuori da tutto il mondo possiamo dire sono affascinati da questa dimensione della bellezza del territorio e poi dalla capacità di entrare in relazione con questo territorio è quello che noi stimoliamo in loro state qui ascoltate parlate con la gente trasformate questa bellezza attraverso la vostra arte il fatto che il web sia insomma fruibile da ogni dove può far conoscere luoghi come Castelbeseno anche fuori dall'Italia sì ci aveva scritto una volta una persona credo dall'Australia e anche dal Sud America in una delle nostre mappature anche per esempio su Rovereto che abbiamo presentato pochi giorni fa al Mart un lavoro sul Rovereto di tre anni una persona ci aveva scritto dicendo ah io riconosco quello là quella persona quel testimone è mio parente è mio vecchio parente quindi c'è una grande soddisfazione in fondo siamo tutti in relazione siamo in rete e noi non facciamo altro che rivelare mettere in luce queste reti nascoste sottili ricordiamo siamo in chiusura ricordiamo il sito se si volesse approfondire l'argomento sì da portobeseno.it partono una serie di archivi che raccolgono tutte le nostre attività quindi ci sono gli archivi sonori gli archivi i fotografici i video e poi tutte le mappe che cercano di aggregare questa conoscenza per dare un senso al cambiamento del territorio quindi andate se pensiamo che nel 2005 il virtuale era veramente virtuale ormai non possiamo più dirlo adesso perché ormai il virtuale è entrato nelle nostre vite e di fatto le ha cambiate però l'idea è sempre quella di andare navigare esplorare e poi andare sul territorio esatto il viaggio l'invito di portobeseno è sempre quello del viaggio e del camminare per scoprire il porto è lì a Beseno grazie a Davide Ondertoller e grazie a Saramain buon lavoro buon festival grazie